Abbiamo avuto tanti partecipanti, 172 iscritti con ben 18 società provenienti dalle Marche, dall'Abruzzo e anche dall'Emilia Romagna. Una macchina organizzativa imponente, tanta tanta gente a dare mano, volontari e questo non è scontato perché un giorno come oggi con queste temperature davvero si fa sentire. Però un grazie a tutti perché è stata una bella manifestazione, l'abbiamo voluta riportare al centro del quartiere di Villa Fastigi con il supporto comunque anche della circoscrizione e di tutti gli sponsor, soprattutto del gruppo BS, che ci permette di essere qua noi come Pisaurum. Quindi un ringraziamento speciale anche a Roberto Selci che ha voluto, ha creduto in noi e sta credendo ancora in noi. Per anni è mancata una gara di bicicletta, una gara di ciclismo all'interno del paese e siamo veramente molto contenti che sia tornata una manifestazione così, una manifestazione bellissima, molto partecipata e siamo contenti che ancora una volta Villa Fastigi possa essere il tracciato per una competizione sportiva di alto livello. La società è stata costituita due anni fa con lo scopo principale di promuovere il ciclismo giovanile. Il nostro intento per il momento ci siamo focalizzati sui giovanissimi, i bambini ancora perché vanno da 6 a 12 anni e vogliamo cercare di riportare il ciclismo giovanile qui nella zona del Pesarese perché negli anni è un po' sparito col tempo. Adesso stiamo cercando di promuovere il più possibile. Ricordo che noi organizziamo 5 gare durante la stagione, di cui 3 nel territorio del comune di Pesaro e 2 in provincia. Questa è l'ultima gara del comune di Pesaro, poi ne avremo un'altra a Montelabate. È comunque una cosa molto importante e abbiamo cercato di riportare il ciclismo giovanile a Pesaro. Ci stiamo riuscendo, abbiamo diversi iscritti nella Pisaurum e abbiamo comunque anche la rappresentanza di Fano, una società molto importante. Cercheremo nel 2024 di consolidare tutto, di riproporci con altre gare e cercheremo di introdurre addirittura questa è una new entry. Forse avremo anche un'altra gara nel quartiere di Santa Veneranda a Celletta, però ancora è tutto da organizzare. Questa è solamente una chicca così vedremo se riusciamo a concretizzare anche quella.